queste non so se posso farle vedere ci sono pipponi più avanti c'era un bestemmione ah c'è Van de Ven forma A e l'avevo messo dentro proprio perché volevo provarla che facciamo ci proviamo Van de Ven guarda che statistiche è un di pot uno dei difensori più forti del gioco tra i pot adesso che ha incontrista con 95 di velocità mi intriga sto Van de Ven ragazzi ce lo proviamo più forte di? ah non lo so può anche essere può anche essere ma secondo me può dire la sua cioè secondo me è tanta tanta roba tanta tanta roba e alla fine non l'ho più provato perché non era mai A primo avversario di quest'oggi arca troia eccolo arriva arriva il cappellone questa è la squadra del nostro avversario in realtà free to play però una bella squadra si con lo base fa 100 andiamo così ragazzi prima partita? sul mio account si prima partita prima partita di quest'oggi vedo che se la gioca con calma forse c'ha possesso palla non ho visto dall'avanti cazzo si è arrivato è arrivato ragazzi il cappellone dell'avversario non il portiere mi ha fatto il cappellone in difesa non è riuscito a spazzare e Ronaldo non sbaglia sicuramente eh lo sapevo io lo sapevo mi sono messo bravo Van de Ven bravissimo Van de Ven spazza mamma mia però Dixon è un buonissimo terzino per essere free to play è veramente veramente forte e Totti invece com'è? eh Totti è una stellina Totti è una stellina non tira ciala forse è adgar anche non è male ma ti rendi conto che tiro ha fatto dopo 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 80 metri palla al piede vedete perché è forte anche Neymar vedete perché è forte anche Neymar Cialanoglu lo sapevo già che segnava lo sapevo già perché quando gli dai un pallone così dal pelo fuori dall'aria e tiri di potenza con Ciala e 99% gol chiudi chiudi Bellingham eh non l'ha chiuso non l'ha chiuso l'ha chiuso Van de Ven però che poi sbaglia il passaggio oddio zero minuti di recupero vabbè ce lo facciamo andare bene risparmiamo qualche secondo qualche secondo nella realtà 3 a 0 ci portiamo a casa sta partita contro quest'altro turco praticamente nel secondo tempo poteva anche non giocarlo anche se nel secondo tempo ho fatto qualche tiro in più però vabbè meritata la vittoria eccolo 3095 ovviamente un altro turco sì mi sono dimenticato di metterlo in realtà dovrei aggiungerlo nei vantaggi ma cioè abbonandovi se volete vi posso fare cioè proprio privatamente tutte le build che volete cioè mi chiedete la build D1 io ve la faccio da zero cioè volete usare Zaccaria CC io ve lo faccio Zaccaria CC volete usarlo DC ve lo faccio DC volete usare Totti prima punta ve lo faccio prima punta un esempio eh mi metto lì guardo un po' le build la modifico comunque Van de Ven due volte di fila tutte e due volte di fila su squadra del nostro avversario inizia così seconda partita con Van de Ven provaci provaci mamma mia ragazzi ma che cazzo di giocatore è che giocatore è io lo amo io lo amo è completamente senza senso qua si è anche girato eh però è tronco però è tronco vai che lo spazio vai che lo spazio Messi si cazzo questa dovevo buttarla dentro secondo me perché è troppo scontato andare eh lo so bravo Bellingham bravo Jude il prima uno due ancora Ronaldo me lo devo giocare molto bene ragazzi perché siamo superiori guardalo guardalo c'è la torata Michael che è sicuramente più forte del pacchetto ma era quello che mi serviva ecco lo sapevo cosa cazzo ho fatto Van de Ven oh non ci credo kick off kick off ha fatto passaggio da centrocampo fatto passaggio da centrocampo si è aperta la difesa porca di quella troia gioco di merda vai Bellingham che cazzo ha preso ancora no no non me ne può fregare di meno questa Giru da là è fuori gioco no ma a parte un fuori gioco ah ragazzi siamo a ben due due non uno ma ben due pali signori due pali Bellingham vai Bellingham minchia non c'è nessuno su per forza bravo chiesa bravo chiesa bravo chiesa bravo chiesa e la sblocca e la sblocca ma che cazzo di gol ha fatto eh vabbè Giru almeno mira la porta eh lo so ma non so perché ha tirato di Mancino perché poteva benissimo tirare di destro da lì cioè ma poi non è soltanto no no zitto 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 potrebbe stemmiare se no simen dopo sta partita lo svincoliamo simen dopo sta partita lo svincoliamo perché è una merda putrida e sta parata la facevo io senza neanche muovere le mani con il piede c'era un passaggio a simen la stoppavo col piede proprio con la pianta e ripartivo pure palla al piede mi dribblavo pure messi che gol del cazzo ma ditemi voi se è possibile una cosa del genere ditemi voi se guarda che cazzo fa otto mesi ci ha messo per buttarsi ok dalla dalla odio diego armando il maradona 3 a 2 e adesso basta difesa totale ah difesa totale e mi ho tolto zaccaria saperlo tenevo doppio però dovevo vincerla grande diego ma ma diego diego non lo fermi è una cosa veramente assurda piru non ci credo e mi ho preso un altro questo che cosa vale 10 euro vale cioè cos'è tira 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 madonna mia mamma mia raga diego 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 armando maradona questo entra dalla panchina e ti vince la partita da solo ti vince la partita ma quanto cazzo è forte vabbè tanto sbaglia dal 2 a 2 finita 6 a 2 giustamente anche giustamente che cazzo di partita signori cioè che io gli ho fatto 4 gol da difesa totale finita ragazzi 6 a 2 mamma mia mamma mia che sudata che cosa veramente assurda è un quadrano diego giustamente 24 tiri si è beccato 15 in porta è un altro turco è un altro porco di turco mamma mia van de ven terza volta di fila tutto su van de ven tutte le volte su una cosa assurda squadra dell'avversario inizia l'ultima forse partita di quest'oggi non voglio bisogna fare attenzione ragazzi 1 a 0 mamma mia mamma mia Erpupone si porta a casa un altro gol un altro gol all'ottavo minuto poi segnerai i turchi sai che goduria Philipp Lahm l'1-2 bellissimo e dai vai cipi con i belli gol porco del yes mamma mia ragazzi un altro giocatore di quelli che ti svolta ti svolta la squadra e vabbè arriva arriva ancora il pupone anche se qui il gol l'ha fatto l'ham l'ham era lì davanti se avevo grosso spiovente questa la mettevo in mezzo la mettevo in mezzo spiovente madonna quanto è libero l'auto entra fa il compitino te la mette lì nell'angolino basso 4-0 chiusa la partita all'ottantatresimo ragazzi e siamo in divisione 2 cioè io avrei capitato sul 2-0 al sessantesimo figuratevi ah e vabbè ah però è una cosa impossibile cioè è una cosa assurda una decina di pali una decina di pali 4-0 fine di quest'altra partita quest'ultima partita ragazzi grandissima prestazione oggi ci sta che l'abbiamo vinta migliore in campo Erpupone insieme a Giud belli gol divisione 2 portata a casa abbiamo provato anche Van de Ven che dire su Van de Ven ragazzi secondo me quando è A è molto valido è molto valido per uno che non ha un epiche in difesa così non dico che è a livello delle epiche ma è una gran bella carta perché c'è tutto contatto fisico velocità statistiche difensive colpo di testa c'è tutto è alto 1.93 quindi quando è formato è davvero davvero tanta tanta roba promosso a pieni voti e ci vediamo nei prossimi giorni ciao a tutti ciao 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 ciao